La Grigua è un'associazione culturale e ambientale fondata nel 2018 per promuovere il percorso della ferrovia incompiuta Canicati-Riesi. Noi promuoviamo attualmente il territorio di Riesi e Sommatino dove sono state ultimate le opere più importanti. Hanno fatto quasi tutto, dopo è scoppiata la seconda guerra mondiale e il ferro che c'era lì per poter lavorare, la ghisa eccetera, l'hanno portato via per costruire, per fare i cannoni. Queste nostre strutture che hanno fatto già 90 anni fa sono talmente imponenti che nel loro abbandono di 90 anni sono ancora in piedi e percorribili. La Greenway o meglio il percorso della ferrovia incompiuta è stata fortemente voluta prima della seconda guerra mondiale per il trasferimento dello zolfo che doveva giungere fino a Licata. Quindi per me sono un'ingegneria industriale dell'epoca che è molto interessante e molto importante per il nostro territorio. La nostra associazione promuove infatti cammini lenti, trekking, vogliamo attirare più turismo possibile appunto per uno sviluppo economico dell'entroterra siciliana della provincia di Caltanisset. Qui oltre a queste strutture che sono bellissime da vedere, da fotografare e anche da visitare sia a piedi, a cavallo, in bicicletta oppure con qualsiasi mezzo possibile, qui abbiamo il vino doc, pesche, olio, mandorle, oltre che essere importante il clima è anche importante il modo di mangiare, nutrirsi, delle cose buone che offre il nostro territorio.